O Dio, tu sei mio Dio, all'aurora ti cerco, di te assete l'anima mia, a te anilla la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto della vostra pastura? Non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidare coi piedi quella che resta. Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura, per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di primavera, come in passato. Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana. Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, signore tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso con i suoi figli e il suo bestiame. Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Amen.